Questa è la Venusia, la misteriosa testa con gli occhi sbarrati che emerge dalle acque della laguna di Venezia ricostruita in studio nella prima scena del Casanova di Federico Fellini. È un elemento scenografico costruito da Danilo Donati che oggi campeggia qui nei giardini di Cinecittà. La casa del cinema italiano e non solo. In questi studi all'inizio del 1959 si incrociarono due grandi produzioni cinematografiche, una italiana e l'altra internazionale. Si conclusero le riprese di Ben Hur, film vincitore di 11 Oscar, e iniziò la lavorazione della dolce vita. È un passaggio di consegne. Il grande cinema hollywoodiano con uno dei suoi generi classici, il Colossal, cede il passo al cinema moderno, alla lussureggiante fantasia di Federico Fellini. Tra il 1959 e il 1960 si compie una rivoluzione. Il cinema classico raggiunge il massimo della sua perfezione, ma nel contempo, grazie alle nuove ondate in Francia e in tutto il mondo, una nuova generazione di giovani registi cambia radicalmente le regole estetiche e produttive del cinema. In questo libro Short Cuts, edito dalla Terza, raccontiamo 12 storie partendo da 12 film girati tutti fra il 1959 e il 1960. È un percorso che va da Un dollaro d'onore di Howard Hawks, forse il western più perfetto di sempre, e arriva fino all'ultimo respiro di Godard, il manifesto della Nouvelle Vague. E che tocca La Dolce Vita, L'appartamento di Billy Wilder, La Grande Guerra di Mario Monicelli, Nazarine di Luis Buñuel, Il Mondo di Apu del grande indiano Satyajitrai, I Magnifici Sette di John Sturges, Psycho di Alfred Hitchcock, il padre di tutto l'horror moderno, La Bella Addormentata di Walt Disney, che rivoluziona lo stile dei cartoon e ancora oggi con il suo castello campeggia sia nei giardini di Disneyland sia nel logo della casa madre, Histories della Rivoluzione di Titon Gutiérrez Alea, che battezza il cinema di un nuovo paese nato da una rivoluzione, Cuba, e Sabato Sera, Domenica Mattina, di Carol Rice, capolavoro del free cinema inglese. Da ognuno di questi 12 film si dipartono scorciatoie e autostrade che vanno all'indietro nel tempo fino a prima dei Lumière e arrivano fino all'oggi, al cinema delle piattaforme, al mondo dominato da Amazon Prime Video, da Disney+, da Netflix. Qui abbiamo voluto scrivere una storia del cinema come non l'ha mai raccontata nessuno. In realtà sono tante storie di cinema fatte di aneddoti, di personaggi, di incontri, di ricordi, anche di interviste. È un dietro le quinte della più importante arte del novecento e forse anche della più importante arte del duemila, visto che in copertina c'è 2001, Odissea nello spazio.